Ok, facciamo gli auguri in tedesco, visto che abbiamo un ospite tedesco, vai, come va! Io vi voglio una buona e buona giornata e buona giornata! Grazie a tutti i prestatori che ci stanno guardando qui dall'Arts Caffè, auguri e buone feste, buon Natale! Abbiamo con noi il maestro Mario D'Oro, abbiamo Guido Un Pozzo, abbiamo tanti artisti qui, Angelo, Angelo, abbiamo Antonio Delisi, grande maziettista! Ciao a cari auguri, buon Natale, becco la musica! In diretta dagli studi da Arts Caffè, un bacione a tutti quanti voi! Ciao a cari auguri, ciao! Il nostro grande conduttore artistico! E vai, buon Natale! Il Natale Il Natale Il Natale Il Natale